Eccoci qui ancora insieme nello stand di Lanciano Special con i ragazzi e anche alcuni rappresentanti delle nostre famiglie i nostri genitori che ci hanno in tutto l'anno e da questi due anni supportato e sopportato in tutte le nostre avventure a loro noi vogliamo chiedere alcune domande ad esempio, visto la fine di questa stagione qual è insomma il punteggio, il giudizio che volete dare a noi all'associazione e all'impegno profuso da tutti i ragazzi Io dare il 100, è stato bellissimo e diciamo non me l'aspettavo questa puntata per Domenico e come tutti i ragazzi sono contentissima per uno Grazie Grazie a te e visto che fine di un percorso sicuramente ne inizierà un altro stiamo già programmando per l'anno prossimo che cosa possiamo ancora fare e che cosa possiamo fare soprattutto insieme Prima cosa convolgere gli altri genitori che sono sviduziosi anche perché tutte le istituzioni non gli danno l'opportunità a questi ragazzi di fare qualcosa perché ci credono poco e noi possiamo solo chiedere grazie a Donatello e a tutto lo Stampe per l'opportunità data e si è visto quelle che sono riusciti a fare e speriamo che tanti altri ancora inseriscono il nostro gruppo per un avvenire migliore Grazie Grazie a voi e forza Lanciano Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi